Il romanticismo è un movimento artistico letterario e culturale sviluppatosi al termine del XVIII secolo in Germania e diffusosi in tutta Europa nel XIX secolo. Temi caratteristici di quasi tutti i campi toccati dal movimento romantico sono la negazione della ragione illuminista in quanto non si è rivelata in grado di spiegare la realtà nella sua complessità, l'esotismo, ossia una fuga dalla realtà che può essere sia temporale sia spaziale, l'individualismo e il soggettivismo, con l'abbandono della ragione illuministica tutto ciò che riguarda l'uomo e la natura non ha più un'unica chiave di lettura fornita dalla ragione, l'affermarsi dei concetti di popolo e di nazione. Il romanticismo infatti rivaluta le specificità dell'individuo e questo a livello di stato e di comunità assume l'aspetto del nazionalismo e contribuisce alla formazione della coscienza nazionale risvegliando un grande interesse per le espressioni popolari e folcloristiche. Ancora il ritorno alla religiosità e alla spiritualità. L'uomo romantico rifiuta infatti i limiti imposti dalla ragione ed è quindi naturalmente portato verso l'ambito religioso e la conseguente ricerca di una dimensione immortale. Poi abbiamo lo studio della storia, quindi sempre legato al concetto di rivalutazione della specificità di ogni individuo, col romanticismo si recupera una visione dell'uomo in divenire, ossia in costante cambiamento e ritorna quindi l'interesse per lo studio delle epoche passate. Infine abbiamo la perenne tensione verso l'assoluto. Assoluto che a sua volta si traduce in quattro tematiche ricorrenti, il titanismo, cioè la tensione dell'uomo verso l'assoluto che viene paragonata allo sforzo dei titani che perseverano nel tentativo di liberarsi dalla prigione in cui Zeus li ha rinchiusi pur sapendo di doverci restare per sempre, l'idea del sublime, cioè l'infinito genera nell'uomo uno stato d'animo che i romantici definiscono il sublime, un senso di terrore e di impotenza che però anziché scoraggiare l'individuo ha l'effetto di rendere bello ciò che è spaventoso e incontrollabile. Poi abbiamo il concetto di zenzucht, termine tedesco traducibile come desiderio del desiderio o male del desiderio che è il senso di continua inquietudine che affligge l'uomo e lo spinge a oltrepassare i limiti della realtà terrena e infine l'ironia che è la risposta dell'uomo alla presa di coscienza della finzione intrinseca al mondo e della limitatezza dell'uomo stesso. Ecco dopo questo breve cappello introduttivo sul romanticismo parliamo del romanticismo nell'arte. Seppur abbia dato impulso anche a un nuovo modo di concepire l'architettura e il restauro, nel campo delle arti il romanticismo influenza principalmente la pittura, soprattutto verso la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX, prima in Germania e successivamente in Francia, Inghilterra, Italia e Spagna. I tratti essenziali dell'arte romantica, alcuni dei quali sono comuni a tutta la corrente del romanticismo, sono i seguenti. Il rapporto uomo-natura. La natura è vista come l'espressione del divino sulla terra, la presenza dell'assoluto nel mondo sensibile di cui l'uomo non è che una insignificante manifestazione. La potenza della natura ispira nell'uomo sentimenti contrastanti che possono terrorizzarlo quanto rasserenarlo. Il ritorno al passato medievale. Nell'arte romantica si assiste a un vero e proprio tuffo nella fede con opere che esprimono la necessità di una riconciliazione tra l'uomo e Dio, possibile grazie a una ritrovata spiritualità. Viene anche ripreso il concetto di vanitas, nel senso rinascimentale dell'ineluttabilità, della morte. Quindi, fino adesso, tratti essenziali dell'arte romantica, il rapporto uomo-natura e il ritorno al passato medievale. Poi abbiamo l'aspirazione all'assoluto e all'infinito. Secondo le istanze tipiche dell'idealismo, che traccia un filo comune a tutti i caratteri dell'arte romantica, gli esseri umani altro non sono se non una tappa necessaria dello spirito, che se ne serve per perfezionarsi. Gli esseri umani quindi vivono in funzione di un infinito processo di automiglioramento dello spirito che è immanente alla realtà, in una perenne tensione verso la perfezione, è l'assoluto, il già citato, titanismo. Ideale di libertà e concetto di nazione. Il nazionalismo, così come veniva concepito agli inizi dell'Ottocento, non ha nulla a che fare con la sua degenerazione di fine secolo. Alla base dell'idea romantica di nazione stava infatti il principio di autodeterminazione dei popoli, per cui una comunità di individui, unita nelle tradizioni, nei costumi e nel credo religioso, poteva definirsi una nazione. La pittura romantica infatti rappresenta in molti casi episodi di cronaca in cui traspare questa idea di nazione in contrasto con il contesto storico in cui il congresso di Vienna aveva cancellato le conquiste della rivoluzione francese e aveva ristabilito un ordine e una geografia anacronistici rispetto a sentire dell'epoca. Parliamo adesso in particolare della pittura romantica. Come già accennato, la pittura è l'arte figurativa per eccellenza del romanticismo e assume sfaccettature molto diversificate a seconda del territorio in cui è sviluppata. Iniziamo con l'Inghilterra. In Inghilterra si distinsero tre correnti artistiche all'interno del romanticismo, ovviamente. La corrente visionaria onirica, la corrente del sublime e la corrente pittoresca. William Blake, il massimo esponente della corrente visionaria onirica, dipinge principalmente visioni e sogni. E più tardi si dedica alla rappresentazione di episodi tratti da grandi classici del passato, in particolare la Divina Commedia e il Paradiso Perduto di John Milton. William Turner, principale rappresentante della corrente del sublime, rappresenta nelle sue opere il sublime delle catastrofi naturali, quali ad esempio gli incendi, di cui evidenzia il dinamismo, con una tecnica che grazie all'uso di linee circolari e lissoidali focalizza il centro della scena, coinvolgendo così lo spettatore nella spettacolarità dei fenomeni naturali, che aveva l'impressione di osservare come se fossero stati sfocati da una lente opaca. Tra le sue opere più importanti ricordiamo Luce e colore, la teoria di Goethe, Ombra e tenebre, la sera del diluvio, completata nel 1843. Rimanendo sempre in Inghilterra, John Constable, il più importante artista della corrente pittoresca, si dedica principalmente alla riproduzione realistica dei paesaggi delle campagne inglesi allo scopo di causare nell'osservatore un sentimento di dolce nostalgia. Passiamo alla Germania. Il maggiore esponente della pittura romantica in Germania e più in generale la figura che meglio incarna i canoni dell'arte romantica è certamente Caspar David Friedrich, che dipinge principalmente paesaggi. Nelle sue opere la natura è rappresentata in tutta la sua maestosa sconfinatezza e potenza, mentre l'uomo, essere piccolo e finito, non a caso è sempre rappresentato o di spalle, come nella sua opera più nota, Il viandante sul mare di nebbia del 1818, o in lontananza, in modo che non lo si possa mai guardare in faccia. Altra interessantissima opera è Il mare di ghiaccio, conosciuta anche come Il naufragio della speranza del 1824. Passiamo adesso alla Francia. In Francia si distinguono due sottocorrenti, il romanticismo fiammeggiante, i cui maggiori esponenti sono Jean-Louis Theodore, Géricault e Eugène Delacroix, e il romanticismo lacrimoso, rappresentato da Camille Corot e Theodore Rousseau. Géricault, seppur di formazione neoclassica, abbandona presto i canoni accademici per riproporre interessanti soggetti di cronaca allo scopo di far riflettere sulla condizione miserabile comune agli uomini colpiti da una catastrofe. Si pensi ad esempio alla Zattera della Medusa del 1819 che racconta il naufragio della fregata francese Meduse che costò la vita a 135 membri della ciurma. Anche Delacroix si ispira a episodi di cronaca del tempo, ponendo però l'accento sulla questione dell'identità nazionale. Nel celeberrimo dipinto del 1830, La libertà che guida il popolo, ad esempio, l'incarnazione della libertà si propone come spinta rivoluzionaria contro Carlo X di Francia. Concludiamo con l'Italia. Allora in Italia si sviluppa il cosiddetto romanticismo storico il cui massimo esponente è Francesco Hayez. I dipinti di Hayez rappresentano principalmente soggetti del passato, per lo più del Medioevo, ritratti di celebri figure del suo tempo come Alessandro Manzoni o Camillo Benso di Cavour e amanti uniti da un bacio appassionato. Il suo dipinto più noto, infatti, è il bacio del 1859 che raffigura un uomo che seppur in procinto di fuggire riesce a dare alla donna amata da un ultimo bacio appassionato e sincero comunicando all'osservatore il primato del sentimento su ogni altra cosa. Molto bene, questo è tutto. Spero che questo video vi sia utile. Come sempre vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi. Alla prossima! Alla prossima!